Musica Cari telespettatori ben ritornati anche quest'oggi con noi in diretta con i nostri ospiti diamo un messaggio più costruttivo e più positivo possibile ce n'è anche veramente bisogno prendendo lo spunto da un po' di tempo addietro per fortuna abbastanza nel quale le cose erano andate veramente male la famosa crisi iniziata nel 2008 poi proseguita con ripercussioni e conseguenze e da qui trae lo spunto anche un interessante libro che sarà da Tredugnon nel nostro discorso e che ci consente di presentare l'autore e naturalmente chi lo supporta sotto un altro profilo allora Marco Greggio avvocato specialista nelle crisi d'impresa ben ritornato qui con noi autore del libro Il potere della crisi l'arte di fallire e soprattutto di rialzarsi quello che a noi interessa grazie della sua presenza grazie a voi invece a supportarlo ma non perché l'ha supportato nella redazione del libro perlomeno non ancora perché non è detto che Stefano Zara il nostro esperto di finanza non ci si metta in un periodo magari di lockdown a scrivere un libro ma per quel che riguarda le analisi economiche finanziarie in questo momento viene arrivato anche a lei Stefano Zara allora io direi di incominciare per un po' raccontare ai nostri telespettatori da cosa nasce la redazione di questo libro punto su questo normalmente non mi è consueto presentare manuale eccetera però perché secondo me entrando nel merito di quanto è stato raccolto dalle sue esperienze ha contatto con tanti imprenditori i suoi clienti con tante aziende con momenti di difficoltà ha tratto l'aspetto umano l'ha portato in primo piano e da quello ha visto che c'è possibilità di fare di farla svolta sostanzialmente al di là dei tristi numeri che possono avere le aziende tra l'altro come si diceva fatto in un periodo diverso con spirito diverso però purtroppo ai noi periodicamente tornato di attualità innanzitutto buongiorno a tutti e grazie dell'invito è un periodo un po' difficile lo sappiamo e dunque fatalità ci troviamo a parlare del potere della crisi dunque della crisi in un'accezione positiva che è un po' il messaggio che voglio dare con il libro in questi giorni in cui la crisi si è riaffacciata prepotentemente nella nostra quotidianità tutti speravamo che l'ondata di pandemia fosse già passata e annellavamo per tornare alla vita normale purtroppo notizie di questi giorni insomma temiamo tutti un nuovo lockdown incrociamo le dita speriamo che non sia così arrivando al libro il libro io in realtà ho cominciato a scriverlo tre anni fa il libro parte da una serie di un momento di ripresa peraltro esatto l'ho cominciato a scrivere in un momento in cui la crisi sembrava la grande crisi che è partita dal 2008 in America poi è arrivata in Italia soprattutto negli anni dal 2010-2013 sembrava ormai alle spalle però facevo delle considerazioni un po' microeconomiche un po' macroeconomiche in realtà il libro lo dico subito parla di storie di imprenditori o lavoratori in crisi e di storie di rinascita di queste persone dalla crisi e il firuge ovviamente è il tema della crisi l'analisi che facevo al tempo era quella che noi italiani vivevamo in un paese magnifico strepitoso con un sacco di potenzialità ma che era stato colpito duramente dalla grande crisi del 2008 e non si era ancora ripreso tant'è che nel libro scrivevo basta bastava un raffreddore e poi in realtà è arrivata l'influenza per darci la spallata spero non finale anche perché ripeto il messaggio che voglio dare nel libro è il messaggio positivo di ripresa di rinascita in questo libro come accennavo prima parlo di storie di imprenditori con cui ho avuto a che fare dunque impresa diretta se vogliamo c'è chi chi ce l'ha fatta c'è chi magari non ce l'ha fatta pienamente ed è ancora nel processo di superamento della crisi c'è chi si è reinventato c'è chi sta facendo un po' più fatica a reinventarsi e allora ho cercato di capire quale fosse diciamo il filo conduttore dei processi di ripresa e di rinascita attenzione non tanto economica ma personale e anche se vogliamo da un punto di vista spirituale e ho tracciato un percorso che se vogliamo lo possiamo chiamare metodo che ho chiamato sacer dalle cinque fasi di passaggio e superamento della crisi la prima è un acronimo la prima è la fase della sofferenza poi se vuole le approfondiamo la seconda è la fase di ancoraggio la terza è la fase di analisi delle cause la quarta di analisi delle emozioni e la quinta e ultima è il riequilibrio cioè esci dalla crisi chi recupera il proprio equilibrio ovviamente perso in virtù della crisi tra l'altro la parola sacer è una parola che mi piace molto perché analizzando per esempio storie delle religioni io non sono particolarmente religioso ma sono molto curioso tutte le religioni hanno un punto in comune che dentro di sé l'uomo ha una scintilla di divino dunque in realtà secondo me questo è un messaggio bellissimo che ripeto danno tutte le religioni dall'isma dall'islam al cristianesimo addirittura alla religione degli indiani d'america oltre all'induismo e tutte dicono che dentro di noi abbiamo Dio sostanzialmente alberga dentro di noi una scintilla di divino e questo è un messaggio a mio avviso bellissimo perché la forza di rinascere e di riprenderci in un momento di difficoltà e di crisi ce l'abbiamo già dentro di noi appunto perché una scintilla del divino è dentro di noi e questo credo sia un messaggio da dare soprattutto in questo momento storico di grandi difficoltà ecco torniamo dopo su questi aspetti qua mi voglio un po' allacciare al discorso di questi elementi questi elementi psicologici Stefano Zara condizionano anche l'andamento dell'economia della finanza chiedo questo perché oggi abbiamo oggi in questi giorni c'è stato un tracollo delle borse sul sentiment di sofferenza provocato e di paura dal virus dall'aumento del virus quindi gli elementi di quasi c'è sofferenza di le emozioni come citava nel ritrovo anche dell'equilibrio vanno a condizionare anche la finanza è incredibile non dovrebbe essere così no no poi è sempre stata così nel senso che la globalizzazione ha fatto sì che qualsiasi in un mondo completamente interconnesso quello che accade ha rilevanza globale non può avere più rilevanza locale ma poi la nostra la mia generazione che è quella di boomer nata subito nei decenni due decenni dopo la guerra è una generazione che ha convissuto perennemente quel termine crisi io non ricordo un momento della mia vita in cui non l'abbia sentita anche nei giornali o l'abbia letta sui giornali noi siamo nati in crisi ma mentre nel passato sostanzialmente la localizzazione delle nostre cose delle nostre imprese delle nostre economie a problemi locali trovava risposte locali oggi in un mondo completamente interconnesso almeno da vent'anni questo non può più essere per cui i mercati si muovono sostanzialmente questo è cominciato alla fine degli anni 90 io ricordo le prime grosse crisi finanziarie della globalizzazione quella del 96 quella della crisi asiatica del 96 come mai qualcosa che nasce così lontano riverbera la sua negatività da noi qua in Italia ricordo seduta di borsa 96 un meno 7 un meno 8 98 lo stesso la crisi russa perché poi la crisi russa aveva innescato un problema nelle banche tedesche queste a loro volte innescava a catena un problema sulle banche italiane alta crisi del 98 poi il crollo di tecnologici del 2000 la crisi dell'euro recente torri gemelle quindi eventi connaturati ai sistemi economici oppure esogeni come questo un virus impatta sulla nostra vita poi i mercati sono alto che un termometro e come ogni termometro misura un sintomo immediato che è quello di malessere gli investitori tirano il freno cercano di capire cosa sta succedendo per riprogrammare i loro investimenti e ricalibrarli vedere se all'interno si generano delle nuove opportunità in un mondo in cui è così facile investire in cui in tempo reale puoi spostare enormi massi di denaro in qualsiasi punto della terra queste sono cose che avranno sempre maggiore rindondanza la globalizzazione non è altro che un grande amplificatore di opportunità ma anche di problemi che ci fa vedere tutto in maniera immediata non c'è più un filtro tutto ci arriva e ci arriva assieme a molte altre cose non abbiamo modo di difenderci il grande problema degli ultimi almeno 3-4 anni è questa infodemia essere bombardati continuamente da informazioni anche discordanti tra loro su argomenti che ci toccano direttamente vuoi la salute vuoi il denaro e infatti questo è molto importante quanto diceva adesso Stefano Zara credo l'ha provocato si rilascia un po' alla nostra chiacchierata prima della trasmissione dicendo lo stato d'animo appunto negativo improvvisamente che si è scatenato a seguito di provvedimenti presi dai governi che cercano di arginare questa pandemia con delle restrizioni delle contrazioni che provocano delle conseguenze in alcune categorie economiche che sono coinvolte e così via genericamente condiziona a parte la finanza i mercati eccetera ma anche lo stato d'animo degli imprenditori delle imprese i consumi cioè tutto è un qualcosa che è dilagante come la lava scende ricordiamo che quest'estate le informazioni sul lockdown cioè sul stop diciamo forzoso al sistema produttivo delle ha fatto sì che il prezzo del petrolio diventasse addirittura negativo questa estremizzazione delle informazioni che portano immediatamente ma c'è paura anche adesso al crollo dei prezzi del petrolio precipiti la situazione oggi non per inquorare perché non bisogna minimizzare ma sostanzialmente la situazione oggi è molto diversa che questa primavera abbiamo la metà del mondo in cui è nato poi il problema che è un po' l'Asia che ha superato la fase dell'emergenza sanitaria e ha riconquistato la piena i pini livelli produttivi per cui oggi siamo in una situazione molto diversa però le aziende ne sono coinvolte me lo diceva anche lei come esperto del settore purtroppo sì è evidente che da un punto di vista economico la mancanza di certezza sul futuro e di fiducia anche su quello che può accadere nei prossimi non dico mesi ma addirittura giorni questo mina il fare stesso impresa un imprenditore per sua natura deve essere un ottimista è un ottimista altrimenti se non lo fosse non farebbe impresa tanto più un paese complicato come l'Italia ahimè e quindi il fatto di incidere sull'ottimismo per il futuro dell'imprenditore ha danni pazzeschi ma attenzione non solo danni economici nell'immediato è evidente che se il governo con DPCM chiude un ristorante quel ristorante avrà un grandissimo problema economico attenzione anche se lo chiude parzialmente alla sera perché le consegne non suppliscono al fatturato fatto nei normali giorni soprattutto nei weekend e questa dunque la ricaduta economica è immediata ma poi c'è una ricaduta di tenuta dell'azienda tenuta psicologica dell'imprenditore e dei lavoratori che si trovano poi in cassa integrazione incerti con incertezza enorme sul futuro che a mio avviso sono problemi che si riverberano e si riverbereranno nei mesi successivi anche dopo la fine della pandemia cosa che ci auguriamo che finisca al più presto un'azienda ha un corpo vivo se lo si mina nelle fondamenta è poi difficile riprendersi è molto difficile torniamo su questi temi potete partecipare anche voi con le vostre osservazioni i vostri messaggi dopo la pubblicità tra poco a